Alberto Di Amici, dopo il primo turno di Prove Libere, qual è la tua impressione di questo avvio di stagione della Carrera Cap Italia? Abbastanza positivo, abbiamo trovato un setup nuovo in questo turno di Prove, dovrebbe essere positivo per la gara. Oggi pomeriggio abbiamo lavorato sul passo di gara, domattina in Prove Libere 2 proveremo la macchina in configurazione da qualifica, con il turno di gomme nuove, quindi sicuramente manderemo le cose per vivere su tutto. Sei considerato uno dei favoriti della Michelin Cup e potresti ambire le posizioni che contano anche per la classifica assoluta. Come affronti questa stagione? Sicuramente la stagione fino ad essere la mia carriera, la più impegnativa e quella sulla quale dobbiamo cercare in qualsiasi modo di ottenere i migliori risultati possibili. Quindi cercheremo di essere concentrati al massimo, ottenere dalla vettura le migliori performance possibili e puntare sempre comunque alla vittoria. Grazie. Prego, ciao.